In apertura le notizie dal mondo del lavoro con gli ultimi dati Istat sull'occupazione in Basilicata a soffrire sono soprattutto le aree interne e le zone costiere dove si registrano meno opportunità lavorative rispetto ai due capoluoghi. Vertenza ex-Ocean, ieri nuovo incontro tra sindacati e regione nell'ambito del quale è emersa la volontà dell'ente regionale di riproporre il bando di reindustrializzazione del sito da 8 milioni di euro, andato però deserto per già tre volte. La cronaca giudiziaria con la max inchiesta della DDA di Potenza sulla sanità lucana, il GIP ha riconfermato i domiciliari per Maria di Lascio nonostante le dimissioni dalla carica di prima cittadina di Lago Negro. Si attende ora il verdetto sulla nuova istanza avanzata dalla difesa dell'ex assessore Cupparo. Taxi gratis per tornare a casa in sicurezza e prevenire gli incidenti causati da alcol o droga, questa è una delle iniziative previste dal comune di Potenza nell'ambito del progetto Nuova Strada, finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri. Calcio ieri in Serie C si è giocata la nona giornata di campionato, il Potenza batte la Turris 2-1 al Viviani e raccoglie la prima vittoria dell'era macchia, mentre il Picerno domina sul campo dell'Atina, ma sbaglia un rigore e nella ripresa subisce la beffa. Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione dalla Basilicata. In apertura di questa edizione ci sono le notizie dal mondo del lavoro, con gli ultimi dati Istat sull'occupazione in Basilicata. A soffrire sono soprattutto le aree interne, le zone costiere, dove si registrano meno opportunità lavorative rispetto ai due capoluoghi. Per tutti i particolari sentiamo Michelangelo Russo. Differenze sostanziali in Basilicata quando si parla di opportunità lavorative e quanto emerge dai dati aggiornati dall'Istat con le stime relative all'anno 2021, relativamente ai potenziali posti di lavoro conseguibili nei 14 sistemi locali del lavoro lucani. Se i due capoluoghi conservano la forza lavoro impiegatizie del terziario, non può sorprendere invece trovare Maratea con il tasso di attività più basso e Policoro con il tasso di disoccupazione più alto, fa notare il segretario regionale della UIL Vincenzo Tortorelli. Risultati questi ultimi innanzitutto del turismo stagionale e di attività che si svolgono per pochi mesi l'anno, nonostante il potenziale di attrattività. In Basilicata quindi si accentuano nei territori le differenze tra lavoratori attivi, occupati e disoccupati. Il tasso di attività più alto è a potenza, pari al 43%, seguito da Melfi, Rionero e Pisticci 42%, mentre quello più basso è stato rilevato a Senise 35,7%, seguito da Maratea 35,3%. Il tasso di occupazione più alto è ancora a potenza e Matera con il 36%, quello più basso a Senise al 30%, seguito da Maratea. Il tasso di disoccupazione invece più alto è invece a Policoro 17,9%, seguito da Pisticci, più dietro Lauria e Maratea. Tortorelli si dice preoccupato per il futuro occupazionale dei Lucani, specie se anche i poli industriali come quello di Melfi arretrano. Al centro della nostra riflessione, continua Tortorelli, ci sono il piano del lavoro, il pieno funzionamento dei centri per l'impiego, la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale. Ancora una volta sono i dati della sofferenza sociale a sollecitare il presidente Bardi ad affrontare con strumenti e provvedimenti urgenti le questioni dell'occupazione, del buon lavoro, non precario e qualificato. La situazione politica che si è determinata in regione, conclude Tortorelli, non deve allungare i tempi e aggravare una condizione che l'Istat stessa certifica di crescente disagio sociale. Nell'ambito dell'avvertenza Futur Ambiente, prima giornata di sciopero dei lavoratori in presidio davanti alla regione in attesa dell'esito dell'incontro tra ente regionale e sindacati convocato in mattinata. Situazione delicata dopo le 12 lettere con il preavviso di licenziamento e il mancato pagamento degli stipendi. Il tutto nel difficile contesto di passaggio di consegne tra Asi e Apibas. Fim e Wilma hanno chiesto l'intervento di Acquedotto Lucano per il pagamento diretto dei lavoratori. e all'assessore Galella, soluzioni oggettive rispetto ad un marasma creato da anni dalla politica lucana in maniera trasversale. Ed ora ci occupiamo di un'altra avvertenza, quella relativa ai lavoratori ex-Ocean di San Nicola di Melfi. Ieri nuovo tavolo tra regione e sindacati con l'assessore Galella che ha annunciato l'intenzione di riproporre il bando per la reindustrializzazione del sito. Martedì 18 ottobre si è scritta una nuova pagina nella lunga storia dell'avvertenza Ushan. In regione Basilicata infatti l'assessore alle attività produttive Alessandro Galella ha incontrato le organizzazioni sindacali per riproporre il bando di reindustrializzazione e la terza volta che accade per attirare nuovi imprenditori interessati ad investire e quindi ricollocare i 127 lavoratori oggi in cassa integrazione. Sentiamo il segretario lucano della Filt CGL Luigi Di Tella che ha partecipato all'incontro in regione. Il bando viene di nuovo riemanato alle stesse condizioni. Dopo che più volte era andato deserto, probabilmente per il fatto che, visto che la legge regionale non può frazionare lo stesso, abbiamo difficoltà a trovare degli imprenditori che in un'unica soluzione riescono a ricollocare tutti quelli previsti dalla platea dei 127. Però rimaniamo ottimisti perché il settore è molto appetibile e anche lo stesso bando, come è successo anche in passato, anche se qualche volta è andato deserto, alla fine si riescono a trovare degli interlocutori tali che possono portare a traghettare quello che è l'obiettivo del bando di reindustrializzazione, cioè in primi straricorrocazione dei lavoratori. L'auspicio ora è quello di trovare un player interessato e la speranza che qualcosa si muova è concreta. Allora, ufficialmente non abbiamo avuto purtroppo nessuna manifestazione di interesse. Questo per quanto riguarda il bando di reindustrializzazione proposto dalla regione. Però ci sono degli interessamenti al sito stesso, perché il bando, lo voglio ricordare, può essere in sito o fuori sito. Il sito è messo a disposizione dall'accordo base, dall'accordo quadro per il bando, però ciò non toglie che un imprenditore, e noi abbiamo vari input che un importante player dell'alimentare, si è interessato a riaprire le attività pur non passando direttamente dal bando. Quindi sono due strade parallele che, voglio dire, nella migliore di ipotesi probabilmente porteranno a ricolocare ancora più lavoro che la platea degli ex-Ocean. Certo, il tempo non gioca a favore dei lavoratori dal momento che a fine anno scadrà la cassa integrazione. Purtroppo sì, anche questa è una nota dolente. Sembra che è successo ieri, ma intanto è già passato più di un anno. E i primi ad avere la Naspi in scadenza sono datati il 31 gennaio. Quindi ci dobbiamo muovere. Abbiamo chiesto questa alla Regione di sveltire, ma poi abbiamo chiesto una interpretazione autentica anche della norma della cassa integrazione perché avevamo la sensazione, anzi avevamo anche, diciamo più che una sensazione, avevamo interpretato il fatto che l'anno di cassa integrazione per motivazione Covid, quindi come causale Covid, era neutro e quindi questo, se così fosse confermato, porterebbe ad allungare i termini della Naspi almeno per altri 4-5 mesi. Più ottimista dopo questo incontro? Diciamo di sì, io sono sempre ottimista perché sia la location sia il settore è strategico ed è appetibile. La cronaca giudiziaria con la max inchiesta della DDA di Potenza sulla sanità lucana. Il GIP del Tribunale di Potenza ha riconfermato gli arresti domiciliari per la sindaca di Lago Negro, Maria Di Lascio. La difesa aveva presentato una nuova istanza di revoca o attenuazione della misura cautelare sulla base delle dimissioni dalla carica di prima cittadina. Il Comune di Lago Negro, lo ricordiamo, è stato commissariato su decisione del prefetto di Potenza, ma il GIP ha ritenuto al momento inalterato il quadro delle esigenze cautelari. Gli avvocati Singetta e Sabella guardano ora al Tribunale del Riesame con l'udienza che potrebbe svolgersi la prossima settimana. In attesa di un nuovo responso da parte del GIP, anche l'ormai ex assessore regionale all'agricoltura Francesco Cupparo, sottoposto al divieto di dimora a Potenza e a sua volta dimessosi sia dall'incarico in giunta che da consigliere regionale. Sanità, cambio della guardia al CROB di Rio Nero. La giunta regionale ha preso atto del passo indietro del DG di Martino e nominato l'attuale DG dell'ASM Pulvirenti come commissaria. Ci spiega tutto Celestino. Cambio della guardia al CROB di Rio Nero. Sabrina Pulvirenti è stata nominata commissaria dell'Istituto di Ricopero e Cura Scientifico al termine di una riunione della giunta regionale che ha preso atto della remissione dell'incarico di direttore generale dell'ospedale oncologico di Gerardo Di Martino. In attesa di un nuovo bando per la figura apicale, toccherà all'attuale DG dell'azienda sanitaria di Matera occuparsi della gestione del CROB di Rio Nero che negli ultimi tempi ha perso anche il direttore sanitario e amministrativo. Una situazione che da tempo ha provocato proteste e polemiche da parte delle organizzazioni sindacali e dell'opposizione. Dalla sospensione degli interventi per assenza di anestesisti al numero sempre più esiguo di ricercatori, radiologi, oncologi ed ematologi, la situazione è stata posta sotto osservazione. È andato in pensione anche il medico responsabile dell'ospis e non è stato sostituito. Ci sono solo due fisici con contratto a termine e c'è un solo ginecologo. E poi interventi complessi, neurologia e ginecologia restano complicati per via del numero ridotto di specialisti. Ieri, prima della nomina del commissario Pulvirenti, sulla situazione dell'istituto è intervenuta duramente la consigliera regionale Carlucci del Movimento 5 Stelle. L'IRC Scroba attualmente spiega costituisce la rappresentazione plastica di questa strana commistione tra politica e sanità. Se da un lato resistono e si moltiplicano le figure di amministrazione, dall'altro si perdono e non si tutelano adeguatamente i profili sanitari e scientifici. E passiamo ai numeri della pandemia. Il tasso di positività sale leggermente, ma nell'ultimo bollettino diffuso dalla Task Force regionale ieri pomeriggio il numero dei guariti torna a superare quello dei nuovi contagi. 260 i positivi accertati tra i residenti a fronte degli ultimi 1.205 tamponi processati con un'incidenza del 21%. Migliora leggermente la situazione nei due ospedali. I ricoveri scendono da 34 a 33, 16 al San Carlo e 17 al Madonna delle Grazie. Terapie intensive però ancora vuote in entrambi i nosocomi, ma le buone notizie arrivano soprattutto sul fronte guarigioni. Alle 313 di giornata se ne aggiungono altre 97 da revisione in piattaforma per un totale di 410. numeri che fanno scendere a 5.230 il dato relativo agli attualmente positivi. Taxi gratis per tornare a casa per prevenire incidenti causati da alcol o droga. E' questa una delle iniziative previste dal Comune di Potenza nell'ambito del progetto Nuova Strada finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ce ne parla Lucia Pietrafesa. Resa in carico dei soggetti più a rischio e taxi a chiamata gratis per tornare a casa senza correre pericoli. Sono alcune delle iniziative previste nell'ambito del progetto Nuova Strada finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri i cui obiettivi sono la prevenzione e la riduzione degli incidenti stradali causati dagli effetti di stupefacenti o alcol. Il Comune di Potenza ha dedicato due giorni alla presentazione del progetto che vedrà il coinvolgimento di diversi enti, associazioni studentesche e di categoria. Questo è un progetto che il Comune di Potenza ha vindo e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' un progetto giustamente contro l'alcolismo e contro la droga e noi vorremmo insieme a tutti gli altri partner e con gli altri enti. C'è l'ASP, c'è la polizia locale nostra e ci sono altri enti dei giovani e c'è una società che poi gestisce tutto. Vogliamo portare avanti questa prevenzione perché è importante in questo periodo critico dei nostri ragazzi e per questo noi facciamo prima un confronto con i ragazzi, con l'attività commerciale e con i vari soggetti che si interessano della cosa specialmente alle famiglie. Noi teniamo parecchie idee, il taxi gratis a chiamata teniamo delle corsie preferenziali solo per loro perché quando finiscono la serata anziché prendono la macchina usufruiscono questi servizi che il Comune mette a disposizione. Credo che nell'esperienza di ciascuno ci sia un figlio un genitore, un parente che non è tornato a casa perché aveva esagerato. Rispetto ai giovani noi siamo in debito dopo la pandemia noi dobbiamo rimettere insieme il diritto alla socialità che hanno i giovani con la sostenibilità e la sicurezza di cui tutti hanno bisogno. Noi abbiamo fatto un progetto che si chiama Dare Valore da cui usciamo adesso e che dimostrava come i ragazzi hanno veramente sofferto per questa pandemia. Dunque il nostro progetto è tentare di sentire l'esigenza dei ragazzi, dare soluzione a piccoli problemi che i ragazzi possono avere. In questo caso diciamo pari in modo che i ragazzi che pure devono divertirsi e venire qui in centro a bere e a divertirsi possano tornare a casa tranquillamente senza problemi. Ed ora torniamo a parlare di protezione civile anche Tricarico ha aderito alla campagna Io non rischio per divulgare le attività di prevenzione e le buone pratiche e presentare i volontari formati negli ultimi mesi. C'era per noi Vito Sacco. Il 15 e il 16 ottobre a conclusione della settimana nazionale della protezione civile anche Tricarico ha aderito alle piazze Io non rischio che è la campagna divulgativa più importante del Dipartimento di protezione civile in collaborazione con altri partner come Re Luis o l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. I volontari del locale gruppo di protezione civile Gruppo Lucano hanno allestito un gazebo informativo all'incrocio tra Viale Regina Margherita e Piazza Garibaldi per parlare dei rischi che interessano il territorio e illustrare i contenuti dei materiali informativi della campagna. Per la prima volta la sede di Tricarico della protezione civile Gruppo Lucano ha aderito alla campagna Io non rischio. 11 volontari sono stati formati in questi mesi per partecipare a queste attività in piazza e per divulgare le buone pratiche di protezione civile come recita lo slogan della campagna. I volontari quindi non si sono limitati a lasciare il materiale informativo alle persone che si sono avvicinate al gazebo ma si sono fermati a parlare con loro illustrando le caratteristiche dei rischi e raccontandoli attraverso allestimenti appositamente realizzati. Il totem è la linea del tempo rimanendo a disposizione per eventuali domande e chiarimenti. Si è trattato quindi di un vero e proprio scambio di sapere e informazioni, un percorso condiviso di conoscenze alla scoperta della storia del territorio e delle buone pratiche che ogni cittadino può e deve adottare per difendersi dai rischi. I volontari hanno spiegato che l'Italia è un paese esposto a molti rischi naturali e che l'esposizione individuale a ciascuno di essi può essere sensibilmente ridotta attraverso la conoscenza del problema, la consapevolezza delle possibili conseguenze e l'adozione di alcuni semplici accorgimenti. Sono molto soddisfatto della partecipazione della cittadinanza e mi auguro che l'attenzione alle buone pratiche di protezione civile possa continuare anche sulle piazze digitali, sui nostri canali social della campagna Io non rischio tricarico. In chiusura la pagina sportiva con il calcio di Serie C, un Picerno sfortunato e sciupone perde a Latina mentre il Potenza centra la prima vittoria dell'Era Macchia contro la Turris. Vediamo come è andato il turno infrasettimanale nel servizio di Luigi Santopietro. Giornata nerissima per il Picerno, piena di luce per il Potenza. I rosso-blu di Mister Longo trovano un'altra sconfitta a Latina nonostante una prestazione superba di Cuda e compagni. La gara inizia benissimo per i Melandrini che conquistano un calcio di rigore dopo 47 secondi per un fallo di Andrea Esposito su Golfo. Sul dischetto si presenta l'altro Esposito, Emanuele, ma il capitano del Picerno si fa ipnotizzare da cardinali. I Lucani dominano la prima frazione ma l'undici di Longo sbatte su un cardinali insuperabile. A inizio ripresa la beffa con Di Mino che sovrasta Garzia e il gol che decide la partita. Picerno sconfitto, classifica complicatissima e la panchina di Longo sempre più precaria. Al Viviani invece c'è grande attesa per la gara del Potenza contro la Turris, primo snodo cruciale della stagione del rosso-blu. L'undici di Siviglia parte fortissimo e al settimo passa in vantaggio. Pennellata di Steffedi, grazie a controlla di tacco in diagonale, fa secco Perina, Potenza avanti di un gol. Il primo tempo dei rosso-blu contro un avversario di elevata caratura tecnica è sontuoso e si conclude alla perfezione. Punizione di Emmausso che scavalca la barriera ed entra in rete 2-0 ed esultanza liberatoria sotto la curva. Nella ripresa Padalino butta dentro l'artiglieria pesante e dentro il tridente delle meraviglie con Giannone Santaniello e Leonetti che porta al gol del settantaquattresimo. Assist di a quadro e stoccata di Leonetti e il 2-1 che riapre la partita. Ultimi 20 minuti di fuoco e il Potenza resiste e festeggia la prima vittoria della stagione, il primo successo dell'era macchia e i tre punti che salvano la panchina di Siviglia al primo successo da allenatore professionista. Tutto bellissimo! Ed è tutto per questa edizione, grazie come sempre per essere stati con noi e a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!